ciao brava gente oggi comincio dal basso perché serve un inquadratura un po più diversa da quella che ho usato fino adesso oggi volevo mettere a confronto due coltelli secondo me stupendi della vintage linux che mi hanno messo in crisi perché uno volevo tenerlo per collezione uno usarlo e andavo sono andato veramente in crisi a decidere quale dei due perché sono veramente veramente molto simili sicché oggi vi mostro le tarantelle mentali che mi sono fatto io per decidere quale dei due avrei usato e quale dei due avrei tenuto per collezione cominciamo il pennarello è per assegnare i punti allora cominciamo da quello che si vede all'esterno uno è più corto l'altro più lungo quindi serie 111 mm serie 130 mm hanno 40 grammi di differenza di peso 40 grammi in più rispetto all'altro quindi i primi due punti vanno al soldier uno perché è più leggero e uno perché è più portabile andiamo avanti questi due coltelli l'utilizzo che ne volevo fare io non era in tasca perché io in tasca ho sempre il mio fido swiss chunk che mi fa un po di tutto e vado a prendere altre cose solo quando questo non è adatto quindi stando in una tasca dello zaino l'anellino non mi serve e qui potete vedere che l'ho tolto perché perché la conformazione del ranger grip se non c'è un anellino lo rende adatto ad essere utilizzato anche come frangivetro quindi è vero il frangivetro lo usi se c'è il coltello in tasca perché se devi per la vanare nello zaino è meglio che però è comunque una cosa in più e l'ho voluta esaltare questo coltello invece non lo permette quindi riguardo a questo metto un puntino al ranger grip ora cominciamo a parlare di lama facilità in apertura e chiusura l'occhiello del soldier l'ho trovato molto più comodo dell'occhiello del ranger grip quindi comodità in apertura anche se hai dei guanti con i guanti qua è già un pochettino più difficile quindi il punto va al soldier dopo di che sulla lunghezza della lama non voglio mettere becco perché su questo genere di coltelli la lunghezza non fa una differenza non sono dei full tang che tu li puoi usare per batonare un po' che così puoi batonare queste cose qua ok però comunque la lunghezza della lama nel reale utilizzo secondo me non fa la differenza quindi varie patta non metto neanche i pallini come potete vedere però uno al filo liscio ranger grip mentre il soldier ha due terzi di lama seghettata e un terzo piatta allora in outdoor comunque se devi fare dei feather stick li fai con questa zona di lama e quindi ci siamo quest'altra zona tagliando cordini e corde durerà molto di più la filatura rispetto a quest'altro coltello quello che c'è da dire però è che quando la filettatura seghettata ti molla sei decisamente a piedi e sul campo l'unico modo di andare a recuperare questa situazione e rovinare un po' il coltello dando una filatura lieve da questa parte da questa parte qua dalla parte opposta questo è il tipo di filo è a adesso non mi viene il nome è a scalpello quindi c'è una parte piatta e una è una parte angolata ovviamente qua senza disegno qua con un disegno cosa succede che sul campo tu non è che ti porti barrette barrettine barrettone tu ti porti un pezzo di pietra sperando che non lo perdi quindi l'unico sistema che hai per ravvivare il filo su questo coltello è andare a toccare un pochettino da questa parte qua fino a farlo tagliare e all'autopratico hai rovinato la rama cosa che non succede con questo perché con questo una classica pietra di quelle che ti porti dietro tu ti ravvivi il filo e comunque i cordini vai avanti a tagliarli la ritenzione del filo dei victor inox ci sono vari test potete andarvi a guardare quindi per quello che riguarda il filo la scelta è di nuovo strettamente personale e neanche lì voglio voglio assegnare puntini parliamo di chiusura allora tutte e due sono lame bloccate tutte e due sono bloccate da un sistema liner lock quindi c'è una una leva che tu la devi spostare di fianco per riuscire a chiudere la lama ok così però io ho trovato più comodo il sistema del ranger grip perché il ranger grip basta che premi il pulsante dopodiché lo appoggi da qualsiasi parte e il gioco è fatto cioè lo appoggi dai anche addosso a te comunque in outdoor la cosa prioritaria è cercare di non farsi male sempre ma in outdoor in particolare questo invece ho trovato che dovendo spostare così di fianco poi è un po più da manipolare perché io sposto così di fianco faccio sì che la lama sale sopra la staffa del liner lock poi lo devo vede mi è già scappato poi lo devo ruotare e spingere dentro cosa che invece con questo tipo di di azionamento del liner lock non è più semplice insomma più immediato più più meglio più meglio cribbio bene quindi diamo un puntino al ranger grip ora passiamo alla sega sulla sega invece sì che la differenza la voglio fare sulla lunghezza perché è reale che da un'utilità in più cioè più la sega è lunga più è prestante il tuo taglio immediato cioè bisogna tenere in conto anche il risparmio delle energie al di là del diametro del tronco che puoi segare che tanto cioè parliamoci chiaro segue i tronchi al massimo di questa dimensione se è per costruire perché diversamente è assurdo uscire solo con coltelli di questo genere ma è assurdo uscire solo anche solo con coltelli full tang e cosa fai? In outdoor devi avere per forza come minimo un'accetta o una roncola e quando è per bruciare non stai lì a segare e menarti e stancarti il braccio dai dei colpi secchi che risparmi energia ti porti via sto pezzo e lo butti nel fuoco quindi questi coltelli in realtà possono avanzare il portarti una sega di quella lì a serramanico perché se è vero come dicevo che la sega la usi più che altro quando il taglio preciso ti serve per andare a costruire per andare a costruire un diametro così di legna è più che sufficiente e allora lì sì che entra in gioco la lunghezza come vedete facciamo che fare un confronto a tre ho tirato fuori anche lo Swiss Champ cioè ragazzi questa sega merita il punto in più quindi Ranger Grip tutte e due le seghe hanno un dorso che va bene da essere utilizzato con gli acciarini quindi qua di nuovo pari e patta non sto a mettere il puntino passiamo ora agli altri utensili quindi c'è la periscatole che è esattamente identico su tutti e due è inutile stare ad assegnare punti è quello della Victorinox c'è validissimo tra l'altro c'è un cacciavite qua che va bene anche con le viti a croce quindi nessun puntino ora passiamo invece al cacciavite piatto dall'altra parte cacciavite piatto apri bottiglie spera cavi e fin che ce n'è li tiriamo fuori tutti e due come avete notato innanzitutto qua non c'è un blocco a 90 gradi cosa che invece c'è sul soldier quindi diamo un puntino al soldier dopodiché parlando di dimensioni questa larghezza qua io adesso non so se nell'ambito militare ci sono delle attrezzature io non me ne intendo io non ho neanche fatto il militare in realtà però trovo che per un utilizzo di una persona normale che compra il coltello perché poi se lo porta a fare il picnic se fa una piccola sessione di outdoor queste cose qua questo lo trovo meglio perché è più compatibile con le viti che puoi trovare in giro quindi qua per quello che riguarda la forma anche qua l'apri bottiglia è un po' troppo largo secondo me questo secondo me va meglio quindi per quello che riguarda la forma di quell'utensile il punto va al ranger grip poi apriamolo tutto e apriamolo tutto allora qui di nuovo secondo me sono pari perché se da una parte il soldier ha un liner lock che lo blocca mentre invece questo no questo se lo tiri fuori per aprire una bottiglia lo tiri fuori e aprire la bottiglia lo chiudi e va là e questo devi tarantellare con liner lock è una piccola cosa però comunque è un contro il pro è che lo puoi decisamente usare in tutte le direzioni file e dispa però questo qua anche perché questo qui adesso non so se sarà apprezzabile proviamo rientra un pochettino questo suo rientrare lo rende in realtà bloccato vedete che io posso dare anche di lato quindi comunque non è che è libero e non puoi usarlo per forzare da qualche parte e quindi questi due su questo aspetto li lascio pari adesso qua come dicevo c'è il liner lock andiamo a spostarlo così lui può essere chiuso bene questo lato l'abbiamo esaurito passiamo dall'altra parte dall'altra parte troviamo un cacciavite philips per entrambi dovrebbe essere la misura 1 a livello di testa sono praticamente uguali come dimensione della testa quello che c'è di differenza fondamentale è la lunghezza ok ovviamente uno dei due coltelli più lungo però cosa succede che chi sceglie di avere un cacciavite anziché la pre bottiglie nonostante che in realtà di cacciavite ne è già un altro perché questo qua come ho detto prima lavora con le viti a croce quello che non può fare è entrare e andare in profondità quindi chi sceglie di non avere la pre bottiglie il cavatappi ma vuole un cacciavite lo fa per poter andare in profondità ad avvitare quindi sotto questo aspetto qua così come per la sega la lunghezza assegna il punto e andiamo su questo qua non lo so ma di questo qua per esempio c'è una versione che la 79 dove c'è la pre bottiglie mentre io invece ho scelto questo che nel 78 proprio per avere il cacciavite l'altro utensile che c'è sul sul retro di questi coltelli è il famosissimo e validissimo punteruolo all'esatore della victorino sono identici se non fosse che quello del ranger grip ha il foro che permette di eseguire delle cuciture rudimentali su materiali che possono essere ad esempio per l'anno quelle cose lì ok al giorno d'oggi è più che altro non so chi è che realmente usi questo sul campo però può succedere perché se hai per esempio uno zaino in pelle ti si apre da qualche parte però deve avere anche il cordino e allora si può andare a fare cuciture in ogni caso è oggettivamente un valore aggiunto una cosa in più quindi qua è inevitabile assegnare il punto al ranger grip bene potrebbe sembrare che abbiamo finito ma anche no perché perché le guanciotte del soldier non hanno nessuno scomparto mentre quelle del ranger grip hanno due scomparti dove da una parte c'è il classico stuzzicadenti un po più grosso è più grosso di quello della serie da 91 mm però questo lascia il tempo che trova perché se sei in un bosco a farti uno stuzzicadenti ci metti 30 secondi netti quello che però è valido è che ci sia la pinzetta per due motivi perché nell'ambiente esterno avere dei dolori o farsi male è una cosa veramente da evitare il più possibile quindi una scheggia può creare problemi se non riesce a togliertela perché hai male perché potrebbe fare push infettarsi e comunque ti rende meno abile in tutto quello che fai dopo ti sei piantato la scheggia questo è il caso uno dei casi l'altro caso è nella stagione calda umida non è poi così assurdo trovarsi una zecca attaccata addosso quindi con questa pinzetta riesce a toglierla però con questo coltello se non hai altro la zecca te la tieni fino a quando non puoi toglierla in sicurezza sapete che le zecche si tolgono ruotando in modo da tirargli fuori il becco del quale adesso mi sfugge il nome senza però premere il corpo perché rischi di spremerele e loro ti rigurgitano dentro quello che ti hanno succhiato con la possibilità di prenderti brutte cose quindi questa pinzetta non è da sottovalutare bene il confronto è finito spero che vi sia piaciuto vedere due dei coltelli battersela sul ring all'ultimo all'ultima utilità sono veramente fantastici di fatti li ho presi tutti e due perché li adoro ovvio che non mi piace sprecare li adoro ne ho altri di vittorino qualcuno lo uso qualcuno lo tengo per collezione e quando mi trovo di fronte a due modelli simili il mio modo di scegliere quale usare quale no e fare un confronto come questo cercando di essere il più oggettivo possibile ciao brava gente ciao 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 ciao